Ci siamo. Gearbox è quasi pronta al lancio di Tiny Tina's Wonderlands, spin-off stand-alone della serie Borderlands, figlio del miglior DLC della saga, e che fin dall'annuncio ha saputo stuzzicare l'interesse degli appassionati. Il titolo approderà su PC, PlayStation e Xbox il prossimo 24 marzo, ma noi abbiamo già avuto modo di provarlo in anteprima e siamo pronti a raccontarvi che cosa ne pensiamo. Che Tiny Tina fosse adorabilmente folle non c'è mai stato dubbio, da sempre viene rappresentata come una pazza ragazzina con una notevole propensione alle esplosioni, ma anche con una forte passione per il fantasy e il gioco di ruolo. Mettere insieme questi fattori ha permesso al team di sviluppo di lavorare su una deriva fantasy capace di unire la ricerca spasmodica dei materiali alla creazione di un mondo totalmente immaginario, in cui Tina potesse esprimere tutte le sue fantasie più perverse. La nostra prova ci ha permesso di gustare una piccola porzione di avventura, comunque più che sufficiente per riassaporare il feeling con una narrazione ormai iconica e che non accenna a perdere di mortente. Dimenticate la mappa stellare di Borderlands 3 e date il benvenuto a una mappa disegnata a mano su una sorta di pergamena. Le vibrazioni della letteratura fantasy sono potenti e per quanto il mondo di gioco non sembrerebbe vastissimo, la voglia di approfondire i regni e le razze presenti è davvero tanta. Girovagare per le Wonderlands di Tina non si distacca quasi per nulla da quel che abbiamo sempre fatto nella serie principale. Se da una parte questo permette di ritrovare la familiarità, dall'altra non sarebbe stato male riscontrare qualche differenza più marcata, sia in termini di esplorazione che di mero gameplay. Nel corso del nostro test abbiamo potuto assaggiare due diverse classi. Dopo aver effettuato la nostra scelta siamo stati catapultati in una zona dove era richiesto il nostro aiuto per risolvere una questione diplomatica. Ovviamente l'unica soluzione si è rivelata essere il piombo ed è a questo punto che ci siamo sentiti davvero a casa, nel bene e nel male. Tiny Tina's Wonderlands ha esattamente ciò che già conosciamo, con la sottile ma importante differenza di essere completamente raccontato dalla sua protagonista onnisciente. Digerita questa novità, tutto il resto appare come già noto, si spara tanto, si raccoglie una miriade di armi e accessori e si sbloccano nuove abilità. Grazie al costante affinamento dello shooting e alla capacità di inventare armi e avversari sempre differenti, l'ultima fatica di Gearbox è un autentico spasso, sebbene necessiti ancora di qualche ritocco al bilanciamento. Il mondo è colmo di missioni suddivise tra principali e secondarie, con la possibilità di muoversi a piacere per le aree di gioco intervallate dai soliti muri di delimitazione che richiedono un breve caricamento per passare da una zona all'altra. Pe' dalla mano abbiamo inoltre tentato di capire la direzione di crescita delle differenti classi. Non siamo certi di quanto la progressione fosse effettivamente bloccata, ma a differenza di Borderlands 3, non abbiamo notato la presenza di diversi remi di abilità a disposizione. Tutta la fase di leveling è molto simile al passato, si accumulano punti esperienza, si sale di livello, si acquisiscono nuove abilità e si migliorano quelle già in proprio possesso. Il tutto all'interno di una schermata che richiama a gran voce quella dei precedenti capitoli. Ciò che viene modificato in questo caso è la presenza di una seconda schermata dedicata alle caratteristiche. Oltre ai punti abilità, vengono infatti erogati punti eroe spendibili in una serie di statistiche come Forza, Destrezza e Intelligenza, che incidono direttamente sul nostro protagonista. Le due classi provate partivano da caratteristiche molto diverse tra loro, una più votata alla Forza Bruta e l'altra tendente alla magia. Tiny Tina's Wonderlands si prospetta come un ibrido interessante, che però resta forse un pizzico troppo ancorato al passato. Un peccato riscontrabile anche in Borderlands 3, ma nel caso di questo spin-off speravamo di vedere quel guizzo in più che questa prova diretta non ci ha regalato. Tuttavia, girovagare per il mondo creato dalla mente di Tina e fingere di giocare una grande partita nel suo personale Dungeons & Dragons resta un'ispirazione davvero straordinaria. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali. A cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!